e vai ci risiamo miei discepoli ben ritrovati che fatica anzi a dire la verità non pesa neanche tanto comunque oggi si torna in laboratorio vi presento un nuovo leccione appena entrato in collezione molti mi hanno scritto che sono difficili da trovare i lecci e ci credo sto comprando tutti io quindi se ne volete uno però attenzione pezzi buoni cioè le cagatine ne trovate quante ne volete però lecci buoni si sono difficili da trovare ultimamente secondo me anche in passato in generale piante buone sono difficili da trovare comunque andiamo a vedere 360 gradi nuovo ingresso entrato in collezione prima di iniziare videocorso gratis anche questo mese scusate ho mangiato un pezzo di salmone un salmone intero sono pieno come un rospo dominator 9 euro e 90 fine dalla promozione me ne mancano 15 20 20 pezzi ci avrò ancora in magazzino ok dopo finiscono non ci sono più e non rompetemi il cazzo che non arrivate dopo io non lo sapevo lo sapevate ok quindi approfittate perché da 26 90 arrivare a 9 euro 90 sono 70 per cento di sconto ed è un prodotto top di gamma comunque andiamo a vedere mi piace per chi volesse fischiare questa è una pianta in vendita poi vi spiego tutto perché mamma mia fa un sacco di gemme dal piede questo ma qui questo ha fatto un errore clamoroso clamoroso vi spiego tutto e se fate come dico io qui c'è un ramo se potessi ammazzarvi anche qui anche se potessi uccidervi comunque poco importa perché abbiamo tutte le potenzialità fronte questo però cazzo è bello anche da qua però si gestiamo di profondità però è bello anche bello anche qui comunque avete visto spero di sì pianta che è ufficialmente in vendita quindi per chi adesso voglia di fischiare soldi alla mano sulla porta a casa si porta a casa un bel pezzo che diventa un mostro dalla madonna quindi quando vi dico non comprate la mondessa non comprate le cassate date retta bla 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 questo è il tipico esempio di quando io poi vi propongo una mina della madonna cioè una mina perché perché c'è un cortecione esagerato un monumento c'è un piede che saranno 30 centimetri cazzo così eh ha già tutti i rami che cazzo manca manca se volete qualche ramo ancora più in basso qua da costruire e io vi dico la verità quasi 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 lo farei ok però vi dico sta roba già così una bella pianta è solo da sistemare cioè sono piante che state un po di tiranti così usa cazzo però per carità dopo li tolgo tutti se volete una bomba che diventa una bomba della madonna solo da portare un po avanti da riempire da sistemare da fare un po qualche mezzo palco qui avete tutte le potenzialità e non ci sono dubbi ok quindi come avete visto anche stavolta ragazzi dopo faccio una portatura veloce però anche stavolta come avete visto un bel ciocco quindi quando vi dico comprate cioè quando mi arrivano le foto a questo va bene no no costa poco no no cazzo se costa poco un motivo cioè prendete sempre piante che hanno carattere che hanno una base di partenza solida e tosta c'è un ciocco così grosso ok tutto cortecciato siete a posto siete a posto il resto lo fate perché qui poi da questi allora pianta già va bene così se volete riempirla tirate giù qualche ramo per sistemarlo un po meglio però da questi bugni questi gnocchi quando la pianta ha fatto questi gnocchi lecci soprattutto cacciano fuori rami a non finire in primavera qui semplicemente li hanno tolti tutti ma io onestamente li avrei tenuti perché avere dei rami per carità sono già rami abbastanza bassi però come vedete la pianta poi va un pochettino alzata per essere completata però se partiamo già con un altro ramo qui sotto qui in giro un altro ramo qua in giro è un ramo qua che già vedo che c'è delle gemme per fare la profondità cazzo c'è cazzo cosa viene c'è la la basso ancora un po viene fuori due mani qua gigantesche cazzo viene forna pianta ho detto cazzo viene fuori una pianta che che fa paura fa paura secondo me con due rami bassi qua perché dopo possiamo darla compattare tutto perché tanto questo piante che cacciano a legno facile facile quindi qui è soltanto questione di tempo vi dico le cose proprio come stanno senza pugnete no mamma mi hai detto no questo è piante già pronta per il salto di qualità se la volete me lo dite io valuterei anche di fare il fronte da questa parte perché a dire la verità come come forma del piede mi piace parecchio parecchio l'attaccatura viene proprio viene qua verso di me bello bello e difatti è bello anche qui dai va bene detto questo io spero che che abbiate voglia di fischiare perché non mi capita tutti i giorni dei mostri del genere nel cazzo di monumenti come questi qui sono fatto una bella puntatura stretta prima la primavera così riparte con rame nuovi mi caccia tutte le parti e poi ci si diverte la stragrande perché poi con i lecci ragazzi che così non è che me lo invento io con i lecci ragazzi c'è poco da da spiegare fanno il matto ok come avete visto me ne sono passati qua di lecci ragazzi ne sono passati e li ho venduti tutti chissà perché ok è rimasto uno che quello del videocorso che ho fatto mesi fa è il più bello che ho però lì ci vogliono sono dei soldi ovviamente anche questo non è che sia gratis per carità però secondo me per un neofita questo il materiale proprio ideale per imparare a costruire un cazzo di bonsai perché sennò vi ripeto rimanete sempre il punto di partenza ok due tagli e siete a posto poca roba giusto qui forse un tirantino tirare giù questi rami ma bisogna vedere un po' se caccia da qua sotto ragazzi è 100 per cento che caccia viene fuori un mostro esagerato non avete un'idea la vado a compattare tutta abbassare viene fuori una roba che c'è un mostro ok c'è un vaso bonsai ed è anche un bel vaso bonsai ti dirò e vi dirò vediamo se c'è qualche firma sotto qualcosa non che io mi intendo perché a me di vasi non me ne frega assolutamente un cast e guardo le piante ah ah c'è anche un bel timbro non vorrei che fosse un bel tokoname o che cazzo che sia roba japan qui un po' sbeccatino no problema non me ne frega un cazzo è importante avere la pianta quindi per quelli che adesso mi dicono ma il vaso ragazzi il vaso è bello però dovete guardare sempre la pianta ok anche per quelli che comprano tavolini vari in giro comprate quello che vi pare però io a un certo punto vi consiglio di prendere bel materiale ok c'è nel prossimo video scrivetemi in privato se vi piace se non vi piace non scrivetemi perché non ho tempo da perdere con gente che non ha un'idea di quel cazzo che ha di fronte e noi ci vediamo domani ok perché domani mi presento un frassino piccolino che è un gioiellino piccolino così con tutto il piede piccolino ok video corso gratis claudio bonsai.com scrivetemi in privato ok ciao a tutti